L'uomo sano è un uomo realizzato, un uomo che sa amare, sa provare sentimenti profondi, è empatico, sa cogliere il senso della sua vita, è un uomo che dà significato alle cose che gli accadono, dunque è un uomo motivato a fare quello che ha scelto di fare e sa ragionare con senso critico. È un uomo in pace con se stesso, ha un progetto esistenziale che lo entusiasma. Certo qualcuno potrebbe dire che questo è un uomo ideale e che in pratica non esiste, però vediamo invece quando l'uomo è malato. L'uomo si ammala quando non ha scelta o crede di non averne. La sofferenza lo rende triste, remissivo, dipendente e anche vigliacco e pauroso. In questo discorso però non c'è una vera e propria causa, è piuttosto un circuito che si mette in moto quando la persona inizia a spegnersi, fidendo per lasciarsi andare senza reagire. È come se fosse in ostaggio di una realtà che non lo nutre affettivamente come dovrebbe, che invece lo isola, trasformandolo in una sorta di alieno. Dove è finito il diritto di operare delle scelte? Come si può rovesciare tutta questa situazione? La psicanalisi ci insegna che è necessario curare il desiderio. Infatti è il desiderio che è malato. E c'è una domanda fondamentale che dice hai agito in conformità al tuo desiderio. Che cosa voglio veramente? Da qui parte la nostra realizzazione che coincide anche con l'ampliamento della coscienza e della consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che potremmo diventare. Per realizzare la nostra natura e quindi per individuarci dobbiamo portare alla luce gli elementi oscuri che albergano nel nostro animo. Quando non conosciamo i nostri lati oscuri siamo più deboli, in quanto questi lati ci assoggettano, ovvero influiscono su di noi senza che noi ce ne rendiamo conto. E una conseguenza di ciò è che non siamo capaci di investire costruttivamente la nostra energia vitale. Perciò finiamo per spegnerci e ci ammaliamo, sia sul piano fisico che sul piano psicologico. La malattia non è altro che il tradimento della nostra voglia di vivere appassionatamente e creativamente. Vivere creativamente significa coltivare la nostra vitalità, cioè le nostre vere passioni, che sono espressione dell'intera personalità. Bene, io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche, per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo un messaggio come questo. Come funziona la consulenza? E specificando il vostro nome e cognome e i vostri orari preferiti. Poi potete visitare anche il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video su divisi in varie playlist. Infine mi trovate anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. In bocca al lupo.